Incidente mortale in A1, la vittima è un 38enne di Pisa, Michele Battaglia. L'uomo intorno alle 20.30 stava viaggiando in careggiata sud tra Monte San Zavino e Val di Chiana. Poco prima dell'area di sosta di Lucignano avrebbe urtato con l'auto contro il guardrail di destra e si è così fermato lungo la corsia di emergenza. È sceso dall'auto per verificare i danni alla propria autovettura e per chiedere soccorso. In quel momento è sopraggiunto un furgone che l'ha travolto in pieno, decapitandolo. L'autista del camion si è immediatamente fermato per prestare soccorso ma ha potuto soltanto lanciare l'allarme. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 e la polstrada di Battifolle. Il traffico ha ripreso a scorrere soltanto a tardanotte.